Eccoci qua. Allora, mi chiamo Sara, senza l'H, non si capisce perché mi chiedono se ho l'H sul finale. No, non ce l'ho, dovrebbe essere l'eccezione, invece... no, non ce l'ho. Sara Albani, età scenica 35-40, una cosa del genere, nata e cresciuta in una città che non si fila mai nessuno, ma ha i vintorni meravigliosi, e cioè la spezia, e fortunatamente per me e per voi non parlo come lo spezzino doc, quello col marchio, se no sarebbe tutto un... Ecco, no, questo no. Molti mi dicono che parlo come la Litizzetto e come Magda di Furio, ancora peggio, ma non mi sembra proprio che io dica robe tipo... non ce la faccio, eh, no, non propriamente, anche perché poi mi sono trasferita da anni a Milano, ovviamente con grande originalità per lavorare e fatturare, ma non dico fighe sul finale delle frasi. Quindi, ricapitolando, non sono spezzina tipica, non sono Litizzetto, non sono Magda di Furio, non sono Milanese imbruttita, chi sono? Surprise!